Salmo 54 richiesta di giustizia di un uomo perseguitato si riferisce a quando gli abitanti di Zif informarono Saul che Davide si era nascosto presso di loro salvami o Dio per amore del tuo nome fammi giustizia con la tua potenza ascolta o Dio la mia preghiera presta orecchio alle mie richieste stranieri mi hanno attaccato prepotenti vogliono la mia morte tutta gente che non tiene conto di Dio ecco Dio viene ad aiutarmi il Signore protegge la mia vita ricada il male sui miei avversari tu che sei fedele distruggili con gioia ti offrirò sacrifici ti celebrerò Signore per la tua bontà il Signore mi ha salvato da ogni avversità ho potuto vedere la sconfitta dei miei nemici